Andiamo a vederne un altro, ecco qui già molto meglio, puoi vedere la preparazione, il piede destro che si ferma, certo ci sono degli aspetti tecnici che possono essere migliorati, però in questo esercizio mi interessava che lui sentisse l'uso della mano destra, la rotazione del busto e la spinta verso avanti, non la chiusura su se stesso.